Buongiorno! Stanotte ho caricato il telefono male, quindi sono all'80%, c'è un tempo nella media. Buongiorno, mia di sera, di nuovo qua. Poderoso! Poderoso! C'è molto vento, ma è effettivamente molto poderoso. Poi io, cioè, se non fa solo perché la foto di... c'è una volta in America di Sergio Leone, però... Bello! Possente! Qui c'è l'Oculus. Possente! E tu qua non puoi fare torre più alti di queste. È il simbolo della libertà costituzione, però tu non puoi fare più alti di queste. Pazzesco, davvero pazzesco. Sono tutti sui palazzi meravigliosi. Siamo nell'Oculus. Non vorrei dire, ma l'avvolverà a due piani. Greve! No, stiamo alla ricerca del cibo. Molto, molto bello. Prossimo obiettivo. Lui. Dobbiamo aspettare un'ora. Quindi siamo di nuovo qua. Pazzesco. Pazzesco. Noi stanno andavamo là. Pazzesco. Greve. Addirittura greve. Attualmente l'unica mia preoccupazione è che sia venuta una bella foto di cobertina. Non le ho ancora viste. Se sei qui probabilmente sì. Focante. Grazie a tutti. Più bello che la iniziale. In New Jersey non ci andiamo come ci insegna a mettere madre. Perché mettere madre è quello stile di vita. Quindi andiamo con la metà. Ecco, questo posto moderno. Ci abbiamo in Italia. Pazzesco. Ok. Passate qualche ora. Direzione cena. Stasera, probabilmente non siamo qua a mangiare. Per la cena abbiamo un piccolo problema. A mali estremi. Scherzavo. Certo. Il content. Comunque cena molto buona. Niente, niente male. Poderosa. Gli hamburger migliori dobbiamo mandare con il tennis per sull'opper. Però anche questo fa male. Poderoso. Buongiorno. 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 Grazie a tutti